Ovviamente non sta certo a me difenderla ma penso che l'assessore abbia voluto spiegare il perché quei bilanci ancora non siano stati chiusi, semplicemente questo, perché altrimenti chi legge potrebbe pensare o chi ci ascolta dire ma come mai ancora non avete chiuso un bilancio, cosa avete fatto fino ad oggi? L'assessore secondo me ha semplicemente rimarcato le motivazioni che stanno portando alla chiusura dei bilanci che avverrà ovviamente a breve. Detto questo riporto appunto il voto di astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle su questo ordine del giorno perché appunto condividiamo comunque lo spirito di fondo costruttivo dell'atto, condividiamo le linee guide appunto sottolineate ma dato che già tanto l'assessore e anche la commissione che presiedo sta lavorando su questo tema appunto è un lavoro che già è in essere e che stiamo portando avanti in maniera, devo dire, piuttosto intensa e determinata. Poi sul tema più generale di questa delibera interverrò in dichiarazione di voto finale. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Chiaro che ovviamente noi ci troviamo oggi a votare una delibera più di natura bilancistica ovviamente, anzi veramente di natura bilancistica ma chiaramente anche giustamente posso comprenderlo il dibattito è più sul futuro di Nuova Metropolitane e sul futuro soprattutto delle infrastrutture in questa città. Da questo punto di vista vorrei rassicurare chi ci ascolta e gli altri consiglieri. L'obiettivo è quello di portare avanti le competenze che ci sono all'interno di Nuova Metropolitane e valorizzarle. Su questo appunto sia l'assessore Colombanna che l'assessore Meleo stanno lavorando in un piano di riorganizzazione delle partecipate ma ovviamente mantenendo le competenze che ci sono perché questo è il nostro punto fondamentale. Noi vogliamo continuare a realizzare infrastrutture in questa città. Questa città ne ha tremendamente bisogno, prendiamo i mezzi pubblici tutti i giorni e sappiamo che mancano le infrastrutture. Lo stiamo facendo proprio recuperando intanto i progetti in essere che erano fermi come quello del corridoio della mobilità laurentino e quello del corridoio della mobilità tordecenci che siamo riusciti a sbloccare. Voglio ringraziarlo pubblicamente all'immenso lavoro che sta facendo l'amministratore unico di Nuova Metropolitane, l'ingegner Cialdini che poi come ha ricordato qualcuno prima di me tra l'altro svolge questo compito difficilissimo a titolo completamente gratuito. Quindi mi sento di ringraziare pubblicamente la U che tra l'altro probabilmente audiremo in commissione questo venerdì. Quindi chiaramente stiamo lavorando sulla Metro C, siamo consapevoli del fatto che ovviamente fermarsi al Colosseo sarebbe avere una metropolitana monca e quindi bisogna fare di tutto per proseguire, per servire altri quartieri. Siamo consapevoli della strategicità importantissima del prolungamento della Metro B, Re Bibbia e Casal Monastero. Io anche su questo argomento voglio rassicurare chi ci ascolta, chi abita in quel quadrante, siamo al lavoro, l'assessore è al lavoro, l'amministratore unico di Nuova Metropolitane è al lavoro per garantire quest'opera fondamentale. Nonostante pesi sulle spalle di Roma Capitale e di noi consiglieri un contratto ed un bando che fu fatto, non ricordo bene se nel 2009 o nel 2010, ma comunque gli anni erano quelli, in maniera oserei dire leggera per non dire di peggio. Perché se io metto a bando delle aree per realizzare una metropolitana, delle aree che debbano essere valorizzate realizzando delle cubature e poi su quelle aree si scopre più avanti che non si possono realizzare quelle cubature, c'è stata, mi lasci dire Presidente, quantomeno un pochino di leggerezza se non qualcos'altro. E così poi quando nel 2012 si va a firmare un contratto con l'impresa giudicataria, chiaramente oggi questo contratto che per anni non è stato più toccato né dall'amministrazione che lo firmò nel 2012 né dall'amministrazione precedente, noi invece stiamo facendo carico di questo problema complesso sia dal punto di vista giuridico che pratico, perché se io faccio un contratto in cui dico al vincitore che gli darò delle aree su cui edificare e poi queste aree si scopre che non sono più edificabili, è chiaro che si crea un problema enorme da gestire, ma lo stiamo gestendo e lo vogliamo fare perché siamo convinti che serva il prolungamento della linea B, perché il prolungamento fino a casa al monastero consentirà ai cittadini di raggiungere la metropolitana senza entrare nel gra. Quindi appunto ho citato solamente alcune opere, anche queste poi le affronteremo nell'estito di commissione nelle prossime settimane, come ovviamente il rilancio anche del ferro leggero di superficie e della rete trambiare. Anche su questo vogliamo lavorare e sicuramente anche le competenze che oggi ci sono in Roma metropolitana ci saranno molto utili a tale scopo. Quindi ecco, spero di aver fatto un minimo di panoramica su quello che è il futuro di questa città, sia per quanto riguarda l'azienda che per quanto riguarda le infrastrutture e ovviamente consegno anche il voto favorevole del gruppo Capilone del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente.